Adesso andiamo in Sicilia dove da giorni si attende la decisione, la sentenza del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, sulla costruzione del sistema di trasmissione militare americano MUOS. La popolazione è contraria al nuovo sistema, alla nuova installazione che innalzerebbe, questo è il loro motivo della protesta, il livello di emissioni elettromagnetiche, mentre il Governo ha delegato all'Istituto Superiore di Sanità uno studio sull'impatto ambientale. Per la prima volta le autorità americane, statunitense, hanno autorizzato l'ingresso delle telecamere per visitare la base di Niscemi, Niscemi si trova in provincia di Caltanissetta. È andato Paolo Poggio, vediamo. Una strada di campagna a un'ora dall'aeroporto di Sigonella, nella Sicilia più desolata e aspra, la foresta centenaria di querce da sughero d'improvviso lascia spazio a un'altra foresta, quella delle 42 maxi antenne che da circa 20 anni consentono le comunicazioni radio con le navi americane nel Mediterraneo. La base avanzata di Niscemi, la Naval Radio Transmitter Facility, solo formalmente in territorio italiano, è un'enclave americana protetta da un manipolo di militari statunitensi, da molte telecamere, da tante recinzioni. Da mesi è in costruzione un nuovo sistema di trasmissione satellitare, il cosiddetto MUOS. Ed eccolo laggiù il cantiere del MUOS, il Mobile User Objective System. Dicono gli esperti della difesa americana che attraverso questo sistema, se un militare americano in Africa vedrà il cielo, allora potrà parlare con Niscemi, grazie a questo sistema e con tutto il mondo. Dall'11 aprile i lavori sono bloccati, una decisione presa dal nostro governo dopo il ricorso al TAR della regione siciliana che vorrebbe far abortire il progetto. Per questo il Ministero della Difesa Italiano, in accordo con le autorità americane, ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità uno studio dettagliato sulle emissioni elettromagnetiche, uno studio che, secondo indiscrezioni, starebbe per dare il via libera alla ripresa dei lavori. Il MUOS emette al massimo 200 watts, che vuol dire una lampadina di potenza, in alto, al satellite, mi sembra 40.000 chilometri alto, e allora dovrebbe essere un beam molto concentrato. Per quello l'antenna è molto grande per riflettere il segnale d'interno della parabola, per mandare un piccolo piccolo fine beam per arrivare al satellite. Un sistema dunque che, proprio perché satellitare, dovrebbe inquinare molto meno delle vecchie antenne radio, ormai già usate per la metà del loro potenziale numerico. Una versione, quella americana, in attesa dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che non convince i cosiddetti no-MUOS, che ieri hanno bloccato il corteo con i giornalisti in visita alla struttura, gettandosi sotto il pullman e chiedendo verità sugli effetti del nuovo impianto. Allora, il problema di salute è un problema importante, ma non è l'unico. Bisogna sottolinearlo. Il problema più grave è sicuramente la salute, ma un problema piuttosto grave è quello della minaccia alla pace e allo sviluppo di questo territorio. perché un territorio così militarizzato, in cui i contadini si devono fermare a 5 km dai loro poderi e proseguire a piedi, non è un modello di sviluppo sostenibile. È stato trovato a largo di Los Roques, in Venezuela, nell'abisso di quelle acque, il velivolo con otto... Grazie.